Per una foto del ultimo evento in Le Grand Bournais, se hai chiesto uno, quale hai chiesto? È un ricordo molto bello perché soprattutto il giorno prima ero molto arrabbiata per il quarto posto e quindi mi ha dato la carica in più che mi serviva per portare a casa un risultato così importante. Era la prima volta che ho fatto una gara lì e ho un ricordo molto bello dell'atmosfera che c'era e soprattutto la gente molto calorosa che faceva il tifo. La pista è anche molto bella e ho un bellissimo ricordo di tutto quanto. Grazie. 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 Grazie.